Salve gente! Nei ultimi giorni non si parla d'altro che di Momo e alcune persone sono riuscite addirittura a contattarle. Infatti questa leggenda fa riferimento a due numeri su whatsapp di una persona abbastanza inquietante che dovrebbe appunto rispondere e interagire con chi la contatta in modo non proprio normale. E questa persona, se così si può definire, è in grado anche di dare delle maledizioni ai malcapitati. Ma sicuramente di questo se vi sarete già ampiamente informati. Fatemi sapere anche nei commenti se conoscevate già questa leggenda attuale. Comunque quello che proveremo a fare noi sarà un esperimento barra rituale. Infatti proveremo ad evocare questa creepypasta che è così o questa persona che vedere ci risponde o comunque se troviamo qualche sua traccia anche in Minecraft. Quindi vediamo di entrare in gioco. Ok eccoci qui in gioco, vediamo di iniziare a creare un nuovo mondo. Il mondo ovviamente lo chiameremo Momo che è anche il nome appunto di questa creepypasta. Faremo un'unità di sopravvivenza e come sito utilizzeremo un numero speciale. Ovvero questo qui che dovrebbe essere il numero di telefono di questa persona o almeno il suo codice identificativo. Per facilitarsi le cose ci metteremo anche il bole bonus e direi di creare il mondo. Ok forse ce la stiamo facendo? Ok. Sott'acqua. Ok. Extreme Hills. Ok la nostra cesta è qui. Asciamosi intanto il volume del gioco dalle cuffie così sentiamo meglio. Ok. Cesta apparentemente normale. Comunque adesso faremo anche una cosa. per tentare di attirare questa sorta di entità. Infatti apriremo il gioco in LAN. Così questo giocatore secondo comunque, giocatore tra barra persona, barra creepypasta, non so cosa sia. Mostro. Ecco. Sarà in grado di raggiungersi in questo particolare seed con il suo numero. Quindi, apriamo il gioco in LAN. Ovviamente lasceremo tutto com'è. Monetà sopravvivenza, comandi, no. Però lo avviamo in LAN. Così chiunque, chiunque non proprio, però questa persona potrebbe essere così in grado di accedere a questo mondo. Trattato qua sono in questa direzione perché vedo che siamo tra delle montagne. Oh mio Dio. Siamo su un'isola di Xtremeals? Ok. Mondo stranissimo. In particolare lo spawn perché siamo spawnati in acqua. Sott'acqua. Mi era successo forse una volta perché ci penso, ma... Tutto sommato penso che sia una cosa abbastanza rara. Ok. Forse è meglio se... Ahia. Forse è meglio se saliamo dall'altitudine e vediamo un po' come è la situazione perché... Potremmo benissimo essere su un'isola. Tanto... Il legno ne abbiamo. I blocchi ne abbiamo, quindi... Possiamo salire. Sì, sembrava essere un po' strano, però... Lo sommato sono cose che possono capitare su Minecraft. Vero. Ma li confermate, magari vi è capitato anche già a voi di spawnare... Sott'acqua. Ah, non vediamo che stiamo giocando alle 23 e 44. Vi faccio vedere anche qui. Perché questo esperimento ho deciso appunto di farlo di notte. Tra l'altro, quando ho saputo di questa... Questa leggenda, mi sono inquietato anche perché l'ho scoperto che era sera tardi. E quando ho visto l'immagine, che non ve la faccio vedere perché sono buono... Cioè, non ho dormito molto facilmente. Anche perché ero preso dalla curiosità per sapere chi era, chi fosse, cosa... Cosa volesse, come si potesse anche contattare, perché io mi voglio male. Però, ok, là ci sono dei dame delle pecore. Qua c'è tutta grave, quindi... Proprio un bel mondo, devo dire, abbastanza brutto e grigio. Cupo. Però sì, mi sa che siamo su un'immensa isola... Di Extreme Hills. Cavolo, mi sa che... Oddio, stavo per cadere qua, però non era a fondo, per fortuna. Però vedo che là forse si cambia bioma, quindi andiamo. Anche se ho qualche sospetto. Mi sa che siamo veramente su un'isola. Però dai, non è detto l'ultima parola. Adesso vediamo cosa c'è qui. Vediamo. Ok. Wow. Cos'è quella da mesa? Pecore. Beh dai, che pecore è quasi quasi da mazzerei, eh. Così almeno ci possiamo prendere. Non so. Una dana. Magari anche un po' di cibo. Ok, comunque guardando il sole stiamo giocando da circa 5 minuti. E al momento, nulla di troppo sospetto. Nulla di paranormale, ecco. Io direi che possiamo anche provare a scrivere qualcosa. Eh, ma finché non entra nessuno. Anche se siamo in lana, anche se scriviamo, non penso che cada qualcosa. Però, sapete, giusto un cartello, magari qualcosa. Del genere. Anche perché molte entità non è che... Devono... Ah, giusto. Una cosa intelligente che dovremmo fare. Sì, mi sono bloccato. Cioè, mi sono tagliato le parole. Però va bene. Dovremmo spostare la webcam. Così nel caso dovesse entrare qualcuno, si ricorda qualcuno in chat. Almeno vediamo. Ecco, questa è una cosa intelligente da fare. E niente. Dicevo che comunque molte entità non devono per forza... Entrare nel mondo. Perché sono già presenti. Ma questa... Penso non sia proprio in questo mondo. Ma possa entrare. Dato che dovrebbe fare riferimento a una persona... Perchè inquietante. Però non dovrebbe essere una persona... Fisica, reale. Non so come definirlo. Perché è abbastanza inquietante, devo dire. Ok, qua comunque c'è una piccola mesa. Che fa confine da... Con le X3 Mills. E vabbè, là c'è una foresta. Dai, proviamo a mettere un cartello. Raccogliamo un po' di legno. Mettiamo un cartello. Vediamo se mai qualcuno ci risponde. Scriviamo anche qualcosa in chat, dai. Proviamo così. Scriviamo se è qui. In questo mondo. Vediamo se qualcuno ci risponde. Adesso proviamo a mettere anche un cartello. Sentiamo comunque di fare qualche esperimento per attirare questa persona in questo mondo. Tra l'altro dovremmo anche rigenerare un pochino. Vediamo che possiamo fare. Potremmo farci anche una fornace, tanto la cobblestone si trova. Ecco, anche direttamente qua. E dopo mettiamo anche il cartello, come abbiamo detto. Facciamoci anche un piccone in pietra. Così semplifichiamo le cose. Certo che comunque, anche se per ora non è che sta accadendo nulla di che, giocare comunque a quest'ora fa uno strano effetto. Anche perché, come sapete, vivo da solo. Sono in casa da solo. E che è abbastanza comunque un pochino inquietante fare questi esperimenti di notte. È quasi mezzanotte, ora sono le 23 e 48. Quindi non è proprio il massimo. Una cosa che mi inquieta comunque, che ho sentito quando mi sono informato di questa leggenda, è che ad alcuni ha detto che sapeva dove abitavano. Wow. Questo è veramente inquietante. Dopo non so se magari ha bleffato. Giusto per intimorire. Questo non lo posso sapere. In ogni caso, è abbastanza preoccupante sta cosa. Dai, mettiamo a cuocere la carne. E tra un po' sarà anche notte. Chissà se anche in questo mondo magari qualcosa di strano accade di notte. Potrebbe essere. Vediamo. Ne approfitto anche per fare una spada proprio al volo. Adesso si attendiamo un attimo la carne, poi proseguiremo. Esploriamo bene la mesa, anche se... Sì, solo perché è un bioma raro, però effettivamente non mi sembra di vedere nulla di strano qui. Ok, abbiamo 6 di carne, non male. Raccogliamo le cose qui che potrebbero sicuramente tornarsi utili in seguito. E proseguiamo. Di qua la mesa finisce... O forse prosegue di là? Però di qua penso che sia... Siamo già quasi al limite. Eh, no. Forse prosegue anche di qua. Là invece è oceano. E invece di qui... Ah, pure oceano anche di qua. Ok. No, mondo abbastanza tranquillo. Un po' spawnato in modo strano, però... Non si è decisamente tranquillo. Ok. Boh, proviamo a mettere un cartello, magari. Ma cosa c'è? No, no, niente di che... Proviamo a mettere un cartello, magari. A qualche punto qui, bene in vista. Non ho mai idea di cosa scrivere. Ehm, boh. Facciamo così. Vediamo se è qui. E lì, entriamo ancora comunque... In LAN. Adesso è anche notte. Volevo vedere... Uh, una cro... Oh, Dio, guardate in chat? Oh, mio Dio. Ma... Oh, mio Dio, guardate là! Cosa cavolo? No, 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 no. Oh, mio Dio. Massima attenzione. Massima attenzione. Oh, mio Dio. Si è unito da partita... Oh! So chi sei! E dove sei? Oddio, quello che vi ho detto prima. Ma se prego il thumb... Tab non... Non fa vedere nessuno. Ma che cosa cavolo sta succedendo? Rumore inquietante. Che... Cos'è? Sono vicino a te? Ah, vabbè, è un'altra partita. Rumore inquietante. Oh, mio Dio. Aspettate un attimo. Ok, ma... So dove sei. Ok, vabbè, ci ha visti, effettivamente. Ed è vicino a noi. Però ho lasciato la partita. Come mai ho lasciato la partita? Oh, mio Dio. Non è che... Oh... Oh... Non è che fa riferimento... A quello che è capitato da altri. Ovvero che fa riferimento che sa. Nel senso dove... Dove abita la persona. Dove abito io. Conosco chi sei. E dove sei? Sono vicino a te. Abbiamo notato la partita. Ok, questa cosa mi inquieta abbastanza. Perché effettivamente se... Fosse riferimento al gioco... Non penso sarebbe... Uscita dal gioco questa persona. Oddio. Ok, quasi mezzanotte. Forse è meglio se diamo un'occhiatina. Non nel gioco, ma da qualche altra parte qui. Adesso non so se sia possibile una cosa del genere. Non credo, però... La cosa mi spaventa. Allora, controllo un attimo. La stanza accanto. Controllo col telefono, ovviamente con la telecamera. Registro lo schermo, quasi quasi. No, se posso. E così magari anche vi faccio... Vedere anche voi. È quasi... Mezzanotte. Ok, quello che vedete è in tempo reale. Quello che vedo io lo vedete... Anche voi a schermo. Questa è la stanza accanto. Ho delle telecamere di sorveglianza per ragioni di sicurezza. Che posso però sfruttare anche in queste occasioni. Ok, qua... Comunque sembrerebbe essere... Normale. Ok, ok, ok. Ok, penso di... Fare così. Allora, facciamoci un giretto. Mi porto telefono, registro... Anche perché ora mi sembra... Ma infatti c'è un rumore qua. Aspettate un attimo. Odio, sembra come un rumore... Di pioggia ma non sta piovendo. Ok, per il nostro telefono diamo un'occhiata. Quindi ci vediamo tra pochissimo. Ok, eccoci qui. Vediamo di... Dare un'occhiata in giro. Anche perché effettivamente sento un rumore... Strano. Purtroppo non ho il grandalo nel telefono. Però questo cos'è? Anderei qui. È una torcia in sostanza. Quella di tipo industriale. Quindi fa una luce... Assurda. E niente, diamo... Un'occhiata in giro. Ok. In effettivamente sì, c'è un rumore. Che c***o è? Aspettate un attimo. Perché c'è effettivamente un rumore parecchio strano. Accendiamo la luce. Che c***o. Che c***o. Cos'è? Che c***o? Che c***o è uscito. Che c***o? Che c***o? Perché c***o? Che c***o è uscito. Facciamo luce. La nostra cosa non è che mi piace tanto, sinceramente. A me non sembra. La telecamera è posizionata là sopra, non potete vedere. Ok, penso che sia il momento di guardare fuori dalla porta, giusto per sicurezza eh. Anche se la cosa mi inquieta parecchio, tanto non so neanche dove deve guardare. Se guardare lì è guardare lì, fantastico. Quindi proviamo a vedere con calma. Ok, appena dato un'occhiata, sono stato in silenzio anche perché è parecchio tardi. E voglio sentire questi rumori strani, comunque sembrerebbe essere tutto normale. Riescutterò ovviamente anche l'audio del video e... E boh, niente. Ok, sono appena tornato il PC e ho avviato la registrazione perché mi sono ritrovato esattamente come vedete ora. Ed è una cosa recente perché ci sono ancora dei blocchi qua che flutano perché siamo comunque con la lana aperta. Oh, mio Dio. Forse siamo persi qualcosa eh. E direi che siamo anche alla fine di questo esperimento. Se vi è piaciuto fatemi sapere ovviamente nei commenti. Se ne volete altri fatemi sapere però io vi consiglio assolutamente voi di non provare a fare una cosa del genere. Perché come vedete è abbastanza spaventoso. Ovviamente se non siete iscritti iscrivetevi, un like se non l'avete lasciato. E magari fatemi sapere nei commenti se non avete notato qualcosa che io non ho notato. Tra l'altro sto cercando anche una videocamera in grado di registrare la scarsa luminosità in modo perfetto. Se ne conoscete una fatemi sapere nei commenti, il modello, scrivetemi il nome, il modello. Perché veramente sono disperato non ne sto trovando nemmeno una. Detto questo vi saluto, ci vediamo penso domani in un video oppure live se si sistema la connessione. Ciao ciao.